Ok, ciao cari amici, vi farò vedere un effetto veramente che ha dell'incredibile, non sto scherzando, guardate con i vostri occhi tutto quanto, perché l'ho chiamato Dio. Le carte vanno a scolare, sfido un prestatore di professionisti del tuo mondo a capire come è possibile questo effetto, è un nome presuntuoso ma merita di essere chiamato così. E credo di essere forse uno dei pochi in Italia per fare un effetto del genere, guardate, si mescolano le carte, quante volte vuoi? Un po' mescolare lo spettatore, nessun problema, io non posso sapere niente di questo mazzo, prendo una carta a caso, in mezzo, andiamo sul difficile, prendiamo questa qua, ok? Spero che la vedete bene, ok? Tutto perso, io non so che carta le state guardando solo voi, le carte vanno ancora mescolate. Questo è importantissimo ragazzi, guardate perché non vi darete un'aspirazione. La carta è quinta. Uno, due, tre, quattro. Questa è la quinta carta e questo gioco si chiama Dio. Vi faccio vedere che tutte le carte sono carte, tutte carte diverse. Grazie di cuore e credete nei miracoli, sempre.